Sono il processo breve, PDL e Finiani trattano, se venisse tolta la norma transitoria, il PD che farebbe? Ma queste sono cose puramente ipotetiche, se siamo arrivati fin qui credo che la questione sia appunto la norma transitoria. Tutti il resto è un tema che può essere discusso naturalmente su base di riflessione, organizzativa del sistema giustizia, ma è quello il tema del contendere e credo che rimuoverlo per Berlusconi non sarà semplice. Lei cerca da ogni costo un accordo largo sulla nuova legge elettorale, ma il PD è diviso, come fa? Fate a trovarla. Ma non c'è problema, adesso tutte queste chiacchiere e discussioni. Mi si dia una maggioranza disposta a cambiare questa legge? Che poi la legge nuova si fa. Danti sull'occupazione sono molto molto pesanti, come la vede? Ecco, primo dico che questa dovrebbe essere la notizia di oggi, perché non credo che Gheddafi possa risolverci questo problema. Noi abbiamo, viaggiamo al 30% di disoccupazione giovanile. Ecco, credo che sono percentuali appunto più da regioni del Maghreb, eccetera, che da regioni europee. Quindi bisognerebbe che il Paese fosse concentrato su questo problema, che si chiama lavoro. Lavoro. Non riusciamo a discutere del problema. La politica non discute del problema. In agosto non abbiamo discusso del problema. Temo che anche a settembre non discuteremo del problema. Questo non è più accettabile.